Tutto pronto per lunedì 1 ottobre quando la piscina dell'Acqua Viva finalmente torna a essere fruibile per tutti i terramani? Esatto, noi riapriamo lunedì 1 ottobre con tutte le attività, a partire dal nuoto libero, corsi di nuoto, pallanuoto, sincronizzato, agonistica, attività per agonistica, master, attività per gestanti, corsi di acquaticità per il neonatale, 0, 36 mesi. E quindi tutte le attività che possono gravitare intorno al mondo dell'acqua. Anche la domenica? Anche la domenica mattina, quest'anno abbiamo ampliato gli orari di apertura, apriamo un'ora prima tutti i giorni, chiudiamo un'ora dopo e apriamo anche la domenica mattina 8, 13, quindi l'impianto sarà a disposizione per la cittadinanza anche una mezza giornata di domenica. Vengono persone a chiedere informazioni, i lavori all'interno stanno delineandosi, stanno ultimando? Sì esatto, abbiamo quasi finito tutto considerando che è stata una corsa perché abbiamo avuto accesso all'impianto il 23 di agosto e quindi da lì un mesetto è passato, abbiamo cambiato tante tante cose, abbiamo cambiato gli spogliatoi, abbiamo fatto interventi di sanata, abbiamo sanato alcune infiltrazioni, abbiamo in collaborazione con il comune abbiamo fatto interventi sulle filtrazioni, sulle pompe, abbiamo cambiato i blocchi di partenza, insomma diverse cose che in un mese hanno richiesto un grande impegno, però ecco la risposta alla cittadinanza è stata enorme e c'era grande attesa evidentemente. Un miracolo sicuramente in un mese, soprattutto dopo tutto il tempo di attesa e di assoluta mancanza di manutenzione nel frattempo. Esatto, il problema è questo, che abbiamo riaperto l'impianto ed era in condizioni critiche, quantomeno critiche, poi un po' di olio di gomito come si dice, un po' di buona volontà, collaborazione con gli uffici e diciamo ce l'abbiamo fatta. Adesso la prossima puntata sarà attorno a Natale, primi di gennaio, a cercare di ripristinare anche la piscina a 50 metri, così che quest'estate sia disponibile per tutti. Ricordiamo tutti gli orari allora? Allora, apriamo tutti i giorni dalle 8 ininterrottamente fino alle 21 e 50, 22. Da lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 fino alle 18 e 30, chiudiamo un po' prima per divertire le famiglie e lasciarle libere, la mattina di domenica dalle 8 alle 13.